Bisogna guardare una partita alla volta e non pensare che chi viene qua magari è una squadra blasonata che sta facendo bene, bisogna provare a fare punti con tutti e a cominciare la domenica. Siamo secondo me in fase di crescita perché comunque dieci giorni di lavoro non potevano risolvere tutti i problemi e stiamo lavorando tanto per poterli risolvere, per poter così amalgamare, conoscerci e speriamo che il risultato arrivi anche perché secondo me la fiducia arriva anche da quello. L'umore è positivo, credo che ci sia voglia di fare, ci sia fiducia nei nostri mezzi e è chiaro che qualche risultato servirebbe, la classifica ancora ci tiene in vita quindi siamo preoccupati il giusto e quella preoccupazione sana che secondo me può farci fare quello scatto. La squadra che sta facendo bene su tutti i campi e che comunque è uscita dalla Champions con 12 punti penso che sia la prima volta che succede, il campionato è davanti, sta lottando per i primi posti quindi è una squadra che non scopriamo esattamente noi, speriamo che insomma siano un po' distratti da quello che è stata l'euforia della settimana, anche se insomma ci credo poco, la affrontiamo e vediamo.